L'unificazione dei servizi come quello della protezione civile è lo step che consentirà ai tre comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore di nascere come unica municipalità. Ma c'è intanto una data da rispettare il 30 settembre, la stessa indicata per l'approvazione dello statuto. Per la precisione possiamo dire che orientativamente tra il 24 e il 25 settembre sarà oggetto di firma di questa convenzione dove si stabiliranno ovviamente quelle che sono le procedure di fusione dei vari piani di sicurezza che riguardano le diverse città perché Pescara ha già adempiuto l'adozione di quello che è il piano delle emergenze. In sintesi già sappiamo cosa fare quando ci sono emergenze perché è tutto normato in questo regolamento del piano delle emergenze stesse. Da un lato c'è Pescara che rimarca un servizio strutturato con tanto di capitolo di spese e di dirigenti al servizio, dall'altro ci sono i due comuni Montesilvano e Spoltore che si dovranno in qualche modo adeguare a un sistema già collaudato. Bisogna allinearsi al territorio, alle caratteristiche morfologiche di Spoltore e di Montesilvano, andare a definire quelle che sono gli interventi, le aperture del COC, il coordinamento delle attività emergenziali nelle tre città, di modo che ovviamente tutti quanti i cittadini, quella che sarà la nuova Pescara, la grande Pescara ovviamente, sapranno che ci sono delle squadre coordinate in maniera univoca nei tre territori che formalmente sono divisi oggi ma che saranno un'unica città nel 2026. E intanto, sempre grazie alla protezione civile, è stata portata a termine una campagna di sensibilizzazione. Gli operatori di protezione civile sono stati impegnati nei fini settimana, segnatamente nella domenica, per 50 ore, organizzandosi in squadra e andando a prendere contatti con la cittadinanza, distribuendo dei repliant informativi su quelli che sono i comportamenti più consoni per evitare la diffusione e la potenzialità di incendi, inoltre attuando quello che è un avvistamento antincendio. Sappiamo che questa attività è un'attività dei vigili del fuoco e quindi la protezione civile va solamente a coadiuvare, nel caso ovviamente sia necessario, anche i vigili del fuoco e quindi riteniamo importante il loro intervento, ma soprattutto la sensibilizzazione dei cittadini di Pescara che in qualche modo devono collaborare per evitare che ci siano delle rischiosità create da comportamenti non ortodossi, diciamo così, dal punto di vista della possibilità di incendio. Grazie 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 Grazie